Benvenuto sul nostro canale. Se sei un tifoso della Juve e vuoi rimanere aggiornato sulle ultime notizie, sei nel posto giusto. Non perderti nessun video, iscriviti subito e attiva le notifiche. L'autore del gol della Juventus sulla Lazio, Gleison Bremer, potrebbe lasciare la Juventus alla fine di questa stagione. Il difensore brasiliano è stato preso in considerazione dall'Inter che ha l'interesse di farlo diventare il successore di Milan Schrinier che ha firmato con il PSG. Bremer, uno dei migliori giocatori del roster bianconero, è molto importante per il futuro del club. E' un fatto che la Juventus non sta pensando di vendere il brasiliano. Tuttavia, un'offerta superiore ai 40 milioni potrebbe far pensare i bianconeri alla possibilità. Secondo le informazioni, l'Inter sarebbe disposta a offrire 40 milioni di euro per Bremer. Ci resta solo da sapere se la Juventus accetterebbe questa offerta. E tu, tifoso bianconero, per 40 milioni, sarebbe interessante vendere Bremer? Cosa ne pensi?